Signor Chiffon, ho qui il suo disegno per la pelle d'orso. Tirerà fuori la tua vera essenza, Jai. È rozzo, un po' infantile, ma anche una creatura delle montagne con una forza indomabile. Eh, grazie. Non mi sono mai visto come un orso. Non lo fai apposta, sono cose che capitano. Troverai la tua prede in una grotta, vicino a una vecchia capanna. Sì, feroce. Buona caccia. Sono Roby Reirara e oggi voglio parlare direttamente a Pagannini. Come ti sei? Vecchia merdaccia. Che effetto ti fa sapere che hai fallito? E non lo dico perché trasmetto da un bunker segreto dove non mi troverai mai. No, no, lo dico perché la pensano tutti così. Lo sanno tutti, lo sai anche tu. Lo sai che stiamo venendo tutti a partire del tidero? No. 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 Sì. Sì. Aiuto! 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 Sì. 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 Sì.